Una cordiale buonasera ad Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, occhi ancora appuntati ovviamente sulla FIPILID dove rimarrà chiuso fino alle 22 il tratto tra San Mignato ed Empoli Ovest, conseguenti code di 3 km tra Santa Croce sull'Arno e San Mignato in direzione Firenze e di 2 km tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Livorno, ripercussioni anche sulla viabilità esterna con code in particolare sulla statale 67 Tosco-Romagnola tra San Mignato e Punta Elsa, rimaniamo in FIPILID, si ricorda che stanotte per lavori all'asfalto rimarrà chiuso il tratto tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno in direzione Livorno in orario 22.6, Firenze per i lavori su Ponte Vespucci fino al 15 novembre di vieti di sosta e transito tra Lungarno Vespucci e Lungarno Soderini. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!